Giornata dedicata all'integrazione, domenica nel tratto di pista ciclo pedonale grazie ad un'iniziativa promossa dal Comitato di Cittadini per costruire l'accoglienza Valle Seriana. Cosa dire, è stato bello, commentano gli organizzatori, alla fine la giornata è stata fantastica, tra un sorriso e una pedalata abbiamo fatto circa 30 km sulla ciclabile da rovetta colzate. Durante il tragitto sono state molte le domande che ci siamo posti sul futuro di queste persone, sulla spaccatura tra la gente che ha opinioni diverse. Il Comitato nato il 17 luglio scorso sotto la spinta di Enrico Scandella e Leone Minuscoli, candidati alle elezioni amministrative nella lista Siamo Clusone guidata da Francesco Moioli, ha già raccolto 603 mi piace nella propria pagina Facebook. Noi non siamo buonisti, siamo un comitato realista, ci siamo mossi subito pensando che queste persone non possono stare sul territorio chiuso all'interno delle strutture, ma proprio per riuscire a fare un'integrazione con la popolazione, in questo periodo in cui stazioneranno nelle strutture, dobbiamo muoverci realmente facendo delle iniziative. Il progetto principale del Comitato è quello di invitare i sindaci, le parrocchie, visto considerato anche l'appello del Papa, e tutte le persone che sono disponibili a pensare per questi ragazzi a coordinarli in lavori socialmente utili. Come dicono tanti, non possono restare dentro nelle strutture, a oziare, perché non possono uscire, perché non possono fare niente. Dunque è meglio impegnarli, esempio abbiamo pensato alla pineta di Clusone, potrebbe essere il momento giusto per chiedere a questi ragazzi la cooperazione per pulire la pineta di Clusone, piuttosto che tante strutture nel nostro territorio, le strade che fermano incendi, piuttosto che i sentieri del CAI, sono tantissime le cose che si possono fare, basta la buona volontà. Poi il nostro Comitato fa anche degli interventi ricreativi, giustamente, perché sono ragazzi, abbiamo fatto l'accoglienza su due ruote, nella pista ciclabile abbiamo fatto un percorso da Rovetta fino a Vertova, faremo ancora altre iniziative di questo tipo, come le partite di pallone, piuttosto che pallacanestro, proprio perché si dice sempre mente sana, incorpore sano, bisogna proprio fare un discorso anche di questo tipo. Invece per l'inverno il nostro progetto è quello di fare dei laboratori, abbiamo già individuato due laboratori, uno di Creta e uno di Mosaico, che saranno portati avanti al di fuori della struttura, invitando anche la gente per fare questa integrazione. e questi lavori che faranno i ragazzi verranno portati, faremo delle mostre, in queste mostre spiegheremo anche le vere ragioni per cui questi ragazzi sono venuti, che non sono sicuramente la visita al nostro paese, ma sono ragioni dovute a persecuzione, guerra e soprattutto per la cosa più importante che è la fame, che è la guerra che l'uomo non ha ancora vinto.